Prova il microfono Prova La 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 Sì, prova Cà, cà, cà Perché si capisci dove è allà? E dove è? Allora Ha cominciato? Perché ha cominciato? Madonna mi ha già cominciato, ma ci ha appiccicato No, no, perché ha cominciato? Ha cominciato, ma si Ha cominciato, va Allora, scrivi 23 novembre 23 novembre 23 novembre Londra Ok Troxi Troxi Ok 30 novembre 30 novembre 10 23 novembre Londra Troxi 30 novembre 10 Dicemi stavano 23 novembre Londra 30 novembre Leggi Leggi è la città Leggi Stai facendo guai Tu Vabbè Ma domenica è una discorso di fare promozionalità Il primo dicembre Il primo dicembre Il primo dicembre Parigi Perfetto 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 Perfetto